Imola, Emilia Romagna e il Made in Italy, una combinazione di eccellenze, una storia speciale che si consuma sotto il traguardo che vedete alle mie spalle. Ed è proprio qui, 40 anni fa, che andò in scena uno degli episodi più discussi della storia della Formula 1, la lite in famiglia tra due ferraristi, Villeneuve e Pironi, il francese fu accusato di non aver rispettato i patti, il canadese si arrabbiò moltissimo, la gente sugli spalti rimase sbigottita, Villeneuve non rivolse più la parola al suo compagno di squadra e purtroppo, meno di due settimane dopo, in Belgio, la sua straordinaria parabola umana e sportiva conobbe una tragica fine.